il pezzo di già prepara io su come si fa come si era macchina i denis veramente lenti 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 siano i rubitelle badi lenti 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 Sì, ha i nostri lavori senza fine. Dirigli oggi se è intorno al po' la merda. Giusto impegna mia. Eh vabbè. L'uglia, chiamoci. Pensavo peggio però. Oh santo cielo, santo cielo. Eh, questo è visto. O te lo fai? O ti sbuota il portafoglio. Sai come il nostro è già vuoto. Ai 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 qual'uomo. mi aiuto c'è ma ti vedo una carina oh che due bols viva il lavoro non prende il lavoro, non svilita l'uomo e spacca la schiena nel tempo di una di riserva che schifo ci sono tappellate su per la minchia del pupo un po' di polla travali del merda ha spendito 3.000 euro per fare travali del merda se a te non mi interessa fare un cazzo ognuno e non faccio più ora non puoi confuso e poi l'ho chiamata guarda vai dire guarda vai dire guarda vai dire guarda vai dire guarda se non vieni con le cuore viene con le fattive perché a me fa questo inforso ecco non riesco a farlo ah? si vince, io ho tetta mamma mia non riesco a farlo la signora dà fastidio non l'ho fatto la bimba gli scappava alla fine della giornata c'è tutte le dita che è quella solida quindi farlo fare ce l'ho più resta anche ma la bimba gli scappava si aggrava il bilancio della tragica espulsione di due morte sulle Alpi Svizzere sei le vittime, cinque sono italiane la sesta è una donna di nazionalità bulgara tre persone ricoverate in gravi condizioni nello spettacolo che è condannato fatale o che l'ufera introvvisa durante la spedizione sempre sulle Alpi Svizzere è una francese devo, io devo di avere un lavoro ma anche su un lavoro per portarti su un martedì 2020 non ho problemi il mestiere che entra ma poi ce la rilasciano la qualifica in questo momento ha molti problemi di produzione qualifica di cosa in questo caso? tra questa automazione abbiamo esagerato è stato un mio errore qualifica di scassinatori no, quali sono i lateri? insomma il futuro ha ancora bisogno di noi una buona notizia per i 40.000 operai della terra ma tutto per gamasco visto che l'azienda perde 6.000